Si sono concluse nella serata di sabato le operazioni di spoglio per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del Calcit di Andria per il prossimo quadriennio. Eletto anche il Consiglio dei Provibili. È stata alta l'affluenza di partecipazione dei soci dell'Associazione Storica Andriese che quest'anno festeggia i 40 anni di attività in favore dei malati oncologici. Le operazioni si sono svolte nella sede di Via Taranto e sono state gestite dalla Commissione elettorale presieduta da Domenico Sinistri e dal gruppo di volontari impegnati per l'occasione. Diverse le conferme rispetto al vecchio Consiglio Direttivo per una strada tracciata completamente nuova rispetto al passato e con un progetto come quello della Grande C che sta producendo numeri sempre più importanti di presa in carico di pazienti come spiega il presidente uscente il dottor Nicola Mariano. Oggi realizziamo un momento fondamentale della nostra vita e poniamo le basi di quello che sarà il prossimo quadriennio che sarà sicuramente ancora più ricco di eventi e di progetti che riusciremo a realizzare. I numeri delle attività svolte sono stati analizzati già nello scorso weekend quando c'è stata un'assemblea annuale in cui è stato possibile verificare le azioni in campo sul territorio messe già nell'ultimo triennio. Abbiamo avviato l'anno 2024 che per noi rappresenta un momento davvero di crescita e di fondamentale importanza nella vita del nostro comitato. Ora l'azione del Calcit riparte immediatamente con le nuove cariche che saranno assegnate al direttivo anche perché c'è un fitto programma di iniziative per celebrare il 40esimo anniversario di attività dell'Associazione Andriese. Tanto la celebrazione dei 40 anni con l'intervento del gruppo direttivo di FAVO, la Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, di cui il Calcit fa parte da 5 anni e con il raggiungimento della direzione del comitato regionale che mi è stato affidato qualche mese fa dal Consiglio regionale e poi tutta una serie di eventi a cominciare da quello che stiamo cercando di realizzare. Abbiamo già avviato nella prima scuola di Andria il progetto relativo agli stili di vita, alla corretta alimentazione, al bullismo e contro la violenza che adesso proporremo ad altre tre scuole.